L'utente deve pagare al comune il canone COSAP per l'utilizzo e l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche senza titolo. Il canone CIMP invece deve essere pagato per la diffusione di ogni messaggio pubblicitario fatta con qualsiasi forma visiva o opustica, in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il canone CIMP